Occhio al termostato, mai come quest'anno ci prepariamo a affrontare il generale inverno con così tanta apprezzione. Il prezzo del gas, anche nella più rosa delle ipotesi, è quadruplicato rispetto allo scorso anno. Oltre al carbolletta, bisogna evitare poi il rischio razionamento. Il Governo ha reso noto il piano per il contenimento dei consumi energetici. Innanzitutto, il calendario rispetto allo scorso anno, gli impianti di riscaldamento si accenderanno dopo e si spegneranno prima. A seconda della collocazione dei comuni, sono previste poi limitazioni negli orari di accensione dei termosifoni. In provincia di Sondo ci sono comuni in fascia climatica E e in fascia climatica F. Chi si trova in quest'ultima categoria può accendere i riscaldamenti quando e come vuole, senza alcuna limitazione. In tutti gli altri comuni in fascia E, vale a dire il Fondo Valle, Sondeo Tirano e Chiavenna, da quest'anno invece si potranno attivare gli impianti di riscaldamento domestico da 22 ottobre al 7 aprile per un massimo di 13 ore al giorno. Tutti gli altri comuni sono in fascia E e invece quindi da quest'anno potranno attivare gli impianti di riscaldamento domestico dal 22 ottobre fino al 7 aprile per un massimo di 13 ore al giorno. In casa ci potrà essere una temperatura al massimo di 19 gradi centigradi con una toleranza di 2. Le attività lavorative e artigianali invece non potranno superare i 17 gradi. Le nuove regole non si applicano agli ospedali, alle case di riposo, alle scuole dell'infanzia. Secondo le stime del Governo, queste semplici riduzioni possono permettere di risparmiare quasi 3,2 miliardi di metri cubi di gas naturale nel periodo compreso fra il 1 agosto e il 31 marzo 2023. Il consumo totale nazionale, lo ricordiamo, si aggira intorno ai 55 miliardi di metri cubi. Il Governo, tramite questo e altri interventi di sensibilizzazione, punta a rispettare la riduzione del consumo di gas del 7% rispetto al passato.